Allora siamo arrivati al punto in cui Levi-Strosse comincia a domandarsi come sia possibile che le azioni portate innanzi dallo sciamano abbiano in effetti un'efficacia su disturbi di natura fisiologica, quindi come l'ordine del simbolico riesca ad avere presa sull'ordine del fisico e del fisiologico. Proseguiamo con la lettura. È comodo disfarsi di queste difficoltà dichiarando che si tratta di cure psicologiche. Questo termine resterà vuoto di senso fino a quando non si definirà la maniera in cui rappresentazioni psicologiche determinate sono invocate per combattere squilibri fisiologici ugualmente ben definiti. Ora, il testo che abbiamo analizzato porta un eccezionale contributo alla soluzione del problema. Costituisce una medicazione puramente psicologica poiché lo sciamano non tocca il corpo dell'ammalata e non le somministra nessun rimedio, ma nello stesso tempo mette direttamente ed esplicitamente in causa lo stato patologico e la sua sede. Diremmo volentieri che il canto costituisce una manipolazione psicologica dell'organo malato e che proprio da tale manipolazione ci si attende la guarigione. Cominciamo con lo stabilire la realtà e i caratteri di questa manipolazione. Cercheremo poi quali possano esserne il fine e l'efficacia. Si è dapprima stupiti di constatare che il canto, il cui argomento è una drammatica lotta fra spiriti soccorritori e spiriti malefici per la riconquista di un'anima, dedichi una parte ridottissima all'azione propriamente detta. Su 18 pagine di testo il torneo non ne occupa nemmeno una e la conversazione con Muù appena due. I preliminari sono invece sviluppatissimi e la descrizione dei preparativi, dell'equipaggiamento dei nuciu, dell'itinerario e dei siti è trattata con grande dovizia di particolari. È il caso, all'inizio, della visita della levatrice allo sciamano. La conversazione dell'ammalata con la prima, poi di Costei con il secondo, viene riprodotta due volte, dato che ogni interlocutore ripete esattamente la frase dell'altro prima di rispondergli. L'ammalata dice alla levatrice, in verità sono vestita della calda veste della malattia. La levatrice risponde all'ammalata, sei in verità vestita della calda veste della malattia, proprio così io ti ho capita. Si può sostenere che questo procedimento stilistico è normale fra i cuna e che si spiega, con la necessità, per popoli limitati alla tradizione orale, di fissare esattamente nella memoria quel che è stato detto. Tuttavia, esso qui si applica non solo alle parole, ma anche agli atti. La levatrice fa un giro nella capanna, la levatrice cerca perle, la levatrice fa un giro, la levatrice mette un piede dinanzi all'altro, la levatrice tocca il suolo con il piede, la levatrice sposta in avanti l'altro piede, la levatrice apre la porta della capanna, la porta della capanna scricchiola, la levatrice esce, eccetera. Questa minuziosa descrizione di un'uscita si ripete all'arrivo dello sciamano, al ritorno presso l'ammalata, alla partenza dello sciamano e all'arrivo di quest'ultima, e talvolta la stessa descrizione viene ripetuta a due riprese con gli stessi termini. La cura comincia dunque con una narrazione degli eventi che l'hanno preceduta, e taluni aspetti, che potrebbero sembrare secondari come entrate e uscite, sono trattati con grande dovizia di particolari, come se fossero, si potrebbe dire, filmati al rallentatore. Questa tecnica la si ritrova nell'insieme del testo, ma in nessun punto è applicata altrettanto sistematicamente che all'inizio, e per descrivere incidenti di interesse retrospettivo. È come se l'officiante cercasse di fare in modo che l'ammalata, la cui attenzione per il reale è probabilmente diminuita dalla sofferenza, riviva in modo molto preciso ed intenso una situazione iniziale e ne scorga mentalmente i minimi particolari. Infatti questa situazione introduce una serie di avvenimenti di cui il corpo e gli organi interni dell'ammalata costituiranno l'immaginario teatro. Si passerà dunque dalla realtà più banale al mito, dall'universo fisico all'universo fisiologico, dal mondo esterno al corpo interno. È il mito che si svolge nel corpo interno dovrà conservare la stessa vivacità, lo stesso carattere di esperienza vissuta di cui, con il favore dello stato patologico e con una appropriata tecnica ossessiva, lo sciamano avrà imposto le condizioni. Le successive dieci pagine presentano, con un ritmo ansimante, una oscillazione sempre più rapida fra i temi mitici e i temi fisiologici, come se si trattasse di abolire nella coscienza dell'ammalata la distinzione che li separa e di rendere impossibile la differenziazione dei loro rispettivi attributi.